Ciao, sono Eleonora, ho 16 anni e vengo da Arma di Taggia, frequento l'Istituto Alberghiero e sono contenta di aver partecipato perché sono qua insieme ad una mia amica e spero che riusciremo ad arrivare insieme alla finale. Sei finanziata? No, sono single purtroppo e l'estate non offre un ragazzo che voglia intraprendere una storia seria. Votatemi perché ho voglia di divertirmi tanto, grazie, ciao!